Allora, questo soggetto era un abitué di questo tipo di reazione? Questo soggetto si è dato parecchio da fare. Nella fascia temporale che va dal 16 al 18 maggio, fino a quando non l'abbiamo bloccato, ha commesso una rapina con delle modalità abbastanza curente, come potete vedere dal filmato prodotto dalla polizia scientifica, una serie di furti di scippi. Quindi grazie alla diffusione delle prime immagini dell'impianto di videosorveglianza, uno dei ragazzi delle volanti è riuscito ad associare un indumento, in particolare un paio di scarpe, al soggetto autore di questi fatti che sono stati molto frequenti, pericolosi e ripetuti nel tempo. La perquisizione poi all'interno dell'abitazione ci ha consentito di individuare e trovare l'area furtiva che avete visto sul tavolo e siamo in attesa di capire quali altri fatti ha commesso, atteso che ne abbiamo ricostruiti soltanto alcuni numerosi per essere avvenuti in due giorni. Naturalmente da qui parte anche un appello a tutte le persone che sono state rapinate, che sono state scippate. Parte l'appello nel senso che se qualcuno lo ha riconosciuto, lo riconosce grazie anche al vostro aiuto, come autore di qualche altro fatto lo aspettiamo per acquisire le dichiarazioni e avere un quadro ancora più saustivo di quello che comunque già abbiamo, perché l'area furtiva è in numero cospicuo, i telefoni, le borse, non sappiamo dove ha colpito e quando per associare gli oggetti rinvenuti ai fatti, tranne quelli che abbiamo ricostruito dalla sala operativa direttamente grazie al lavoro dei miei uomini, per i quali lui è stato poi fermato come gravemente indiziato di delitto. Possiamo raccontare quello che si vede dalle immagini che avete diffuso? Dalle immagini nei giorni interessati si vede la cosa più cruenta che ha colpito tutti e quindi all'altezza del negozio della frutta dello stadio, via Stadio Monte, questo strattonamento violento di questa signora. Da lì sono partite le prime attività di identificazione, perché non avevamo assolutamente nulla e poi il resto delle telefonate che si sono succedute al 113 e la descrizione, perché anche in questo caso la collaborazione dei cittadini è determinante, ci ha consentito di arrivare a una prima individuazione dai fotogrammi delle immagini. Quando poi esaminando le immagini c'è stata l'associazione delle scarpe al soggetto notato con le stesse scarpe sul ponte di San Pietro è stato immediatamente bloccato e a quel punto poi è partita l'attività di riscontro all'interno dell'abitazione con gli indumenti che avete notato con cui c'è stato un riscontro con le immagini della scientifica. Ecco perché dicevo prima alla vostra collega della ricostruzione delle vicende, perché trovando il giubbotto verde che ha utilizzato quel giorno è stato poi diciamo abbastanza agevole individuare qual è stato l'episodio di riferimento. Dove e con chi viveva? Viveva con una... viveva, ha trovato un appoggio momentaneo a casa di una ragazza della quale stiamo vagliando la posizione, approfittava lì per cambiarsi d'abito e lì sono state rinvenute poi queste cose.